Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità. Il Papa ci dice una verità, vediamo che Dio ti ama. Ma guarda un po'. E il Papa lo sa, sentite bene. Se l'hai già sentito, non importa. Io te lo voglio ripetere, Dio ti ama. Perché può darsi che il fatto che noi l'abbiamo già sentito, non ci rendiamo conto di che cosa voglia significare che Dio mi ama. Dio ti ama, Dio mi ama. Non dubitarne mai. Qualunque cosa ti accada nella vita, non dubitare mai, mai. Neanche quando salvi nel peccato più nero. Dio ti ama. Gesù mio, io vi amo con tutti i tuoi. Vi raccomando ancora a tutti i poveri peccatori. Le tre cose sulle quali rifletteremo lungo la strada. Dio mi ama, Cristo è morto per me. Cristo vive, vive in me. Facile non è perdonare, ma è l'unica cosa. E ve la leggo da San Giovanni Paolo II. L'amore non è una cosa che si può insegnare, ma è la cosa più importante da imparare. Al di fuori della misericordia di Dio non c'è nessun'altra ponte di speranza per gli esseri umani. Quindi oggi sta la misericordia. Guardate, siamo obbligati, siamo in un piccolo circo. Signore, se ci siamo ingannati, vuol dire che ci hai ingannati tu. Per questa strada ci hai visto tu. Sei tu. E alla fine abbiamo tutto da guadagnare. Sulla soglia di questa piccola chiesa vi accolgo e vi do il benvenuto carissimi pellegrini. Sulla soglia di questa piccola chiesa.